12,99€ il prezzo di questo prodotto della Rampo, un brand che fa cavi di vario genere soprattutto per la ricarica degli smartphone di questi prodotti questa è la versione da 2 metri di un cavo USB e USB di tipo C dall'altro lato andiamo a vedere dentro che cosa abbiamo eccolo qua, molto belli i connettori di questo, li vedete un po' cicciottelli e anche un po' lucidi protetti con una pellicola, con un nastro che protegge il metallo connettori a loro volta protetti da questa plastica sia da una parte che dall'altra anche l'USB-C con il suo tappino di protezione voglio provare a togliere con l'unghia questa protezione che c'è sul connettore perché secondo me il connettore per quanto prenda impronte digitali perché essendo lucido probabilmente ne assorbirà, vediamo, beh neanche tanto, neanche tantissimo però è sicuramente più bello se tenuto in questa maniera molto grazioso, anche il cavo sembra di quelli in nylon anzi la scheda tecnica è in nylon, ma non quel nylon particolarmente rigido che tiene dritto il cavo quando non lo si trattiene, ma un nylon un po' più clemente che consente di snodarlo senza troppe difficoltà nel frattempo ho tolto queste pellicole da qui, vado a togliere il cordino di chiusura il cordino che avrei apprezzato magari di quelli in velcro di nuovo tipo che non si usurano ed eccolo il cavo vedete che è di quelli piuttosto morbidi sì, un minimo di rigidità la tiene e meno male perché vuol dire che resisterà anche un po' di più alla trazione piuttosto che a eventuali incidenti che potrebbero capitare ma allo stesso tempo lo si riesce ad aggrovigliare in questa maniera per portarlo con sé senza troppe difficoltà all'interno che cosa abbiamo ancora? abbiamo i classici foglietti di soddisfatto o non soddisfatto e poi le istruzioni, beh insomma le istruzioni non so cosa si possa inventare per dire come usare un cavo e anche in italiano però evitare temperature estreme utilizzare caricatori originali o certificati e poi ancora ripulisce dalla polvere il connettore del tuo dispositivo e i suoi pin evita gli ambienti umidi, evita l'esposizione diretta al sole stacca il cavo quando l'utilizzo è terminato e impugna il connettore e non il cavo e credo che sia anche questo il motivo per il quale fanno questi connettori un po' più cicciottelli proprio per facilitarne la presa in modo tale che non si tiri il cavo andando poi nel tempo a rompere il punto di congiunzione tra la parte in tessuto nylon e la parte di plastica ma resti il più integro possibile avrei apprezzato una parte qua un po' più lunga di collegamento tra i due tipi di materiali qui abbiamo una parte metallica, qui abbiamo una parte plastica qui abbiamo l'intreccio in nylon sarebbe stato un po' più gradito un connettore con una base un po' più lunga così da poterlo afferrare anche qui alla base non per forza in punta però 12,99 euro è un buon prezzo per un cavo da 2 metri USB di tipo C che è in grado di trasportare fino a 5 gigabit al secondo di dati e lo rende adeguato anche per una ricarica rapida dei dispositivi che supportano il quick charge a 19,5 watt che permette di essere molto rapido nel caricare la propria batteria quindi complessivamente sì qualche piccolo ritocco pro futuro lo suggerirei però complessivamente sì